Che cosa sono i cori? Cerchio K attraverso Marco a cura di VB. Domanda Dove sono gli spiriti sovrani superiori chiamati angeli? Aleph Gli angeli propriamente detti, cioè il nono coro, sono nel piano Aleph. Tutti i cori precedenti sono nel Tau. L'ottavo coro, che sono gli arcangeli, e il nono coro, che sono gli angeli, sono nel piano Aleph. Domanda Ma che cosa sono i cori, il piano Aleph, il piano Tau, gli angeli e gli arcangeli? Aleph Sono stati di coscienza.